ok ragazzi nuovo video oggi parleremo dello scarico passivo cioè posso fermarmi del tutto smettere di allenarmi per tot tempo e la risposta è sì ovviamente ve la spoiler per fortuna possiamo e come gestirla al meglio che cosa succede cerchiamo di vederlo in questo video allora il concetto di fermarsi del tutto viene denominato scarico passivo che si differenzia dallo scarico attivo in cosa nel fatto che non ci alleniamo nello scarico attivo facciamo un blando allenamento sempre con l'ottica di andare a scaricare mentre lo scarico passivo non ci alleniamo non c'è un meglio un peggio io normalmente come gold standard quando un atleta mi raggiunge l'overreaching gli faccio fare 3-4 giorni di scarico passivo quindi riposo completo ti riposi ti calmi ti tranquillizzi e una o due settimane di scarico attivo quindi un periodo in cui in realtà gettiamo i presupposti per il mio ciclo che verrà quindi non è un periodo di conclusione del lavoro già fatto perché mi bastano quei 3-4 giorni ma un periodo in cui lanciamo i presupposti per quello che varrà dopo ok però comunque lo considero uno scarico attivo è in realtà un inizio di meso ciclo comunque questa è un po l'impostazione per cui entrambe queste cose hanno senso ora se andiamo a vedere tantissimi atleti utilizzano hanno largamente utilizzato lo scarico passivo soprattutto dopo la gara Doria Yates suggerisce di fermarsi un mese completo dopo la gara Levroni diceva di fermarsi forse addirittura quattro mesi qualcosa del genere dopo la gara Big Remy pure sotto la scuola di Chad Nichols si ferma forse un mese facendo neanche cardio insomma è una cosa largamente utilizzata ora il discorso è che è utilizzata da personaggi che sono dei mostri di genetica e soprattutto parlando di Levroni che faceva dei periodi di off completo molto lunghi la domanda è avrebbe vinto l'Olimpia se non avesse fatto questi periodi così lunghi e avesse ricominciato subito ad allenarsi non subito però magari dopo una settimana a riallenarsi il dubbio sorge sicuramente poi stiamo parlando di situazioni di post competizione quindi di situazioni in cui da vedere se il gioco vale la candela se ricominciare ad allenarsi vale la pena perché dopo la competizione siamo veramente veramente cotti e molti perdono quella che è l'enjoyability dell'allenamento quello che per esempio io farò quest'anno dopo l'Arnold farò 4-6 settimane di rebound che mi servono più che altro a ritornare a livelli di BF fisiologici e soprattutto cercare però di fare questo processo sfruttando quello che è il rebound muscolare quindi cercando di rimettere nutrienti facendo stoccare tutto quanto al muscolo e poi mi prenderò due settimane di recupero completo di scarico passivo in questo caso in cui voglio semplicemente staccare la testa e provare un po' come mi trovo se ne sento la necessità e se questo soprattutto mi dà un kickstart migliore per il meso ciclo successivo quindi l'ottica è sempre per il dopo non è per il prima perché potrei continuare a dare mi sono sempre allenato io non ho mai fatto uno scarico passivo vero e proprio in questo caso voglio vedere se mi dà un kick molto più forte per il meso ciclo perché andando avanti migliorando con i carichi migliorando la performance i meso cicli sono sempre più impegnativi per me quindi questo potrebbe darmi un beneficio ne sento in qualche modo la necessità comunque vi terrò aggiornati logicamente su tutto sul mio log su Rino Nation dove aggiorno sempre su tutto quanto ora il discorso quindi è non prendiamo esempi da queste persone cerchiamo di capire però come impostarla allora primo punto importante non succede niente se vi fermate una due settimane non succede niente il muscolo soprattutto se la lavorate molto a livello strutturale miofibrillare e riuscite con allenamenti sensati quindi non pump training o allenamenti in buffer attivare e avere quella prolificazione di cellule satellite il muscolo recupera subito non va in realtà in una o due settimane incontro al catabolismo muscolare quello avviene di solito dopo la terza settimana però anche là appena ripendete c'è subito un recupero muscolare io per l'operazione alla spalla mi sono fermato per sei settimane e soprattutto sul petto ho riniziato molto gradualmente e il petto quando ho riniziato è esploso è comunque sta là dove sta anzi ho notato grandi miglioramenti rispetto all'anno scorso con tutto che l'ho allenato meno degli altri distretti quindi non succede assolutamente niente questo è un primo punto state super super tranquilli e il secondo punto è che in realtà oltre a non succedere niente possiamo anche sfruttarla a nostro vantaggio nel senso che possiamo inserire lo scarico attivo e passivo in maniera tattica o meglio dal momento che nella maggior parte dei casi lo scarico passivo ha dei benefici anche psicologici viene organizzato in periodi di vacanza eccetera possiamo organizzare il resto per sfruttarlo al meglio i benefici sono proprio questi per sfruttarlo un recupero innanzitutto mentale che è importante di nuovo in ottica di quello che verrà dopo quindi non di quello che abbiamo fatto prima ma di quello che verrà dopo di dove dobbiamo ricominciare la grinta con cui dobbiamo ricominciare che non è una cosa assolutamente da sottovalutare l'aspetto psicologico è tutto in questo sport perché di base solleviamo pesi e ci preoccupiamo dolore è quello che facciamo per cui non c'è neanche la gioia di stare su un campo per esempio con erba o all'aperto eccetera stiamo in una palestra solleviamo pesi e ci proviamo dolore quindi siamo matti che ne proviamo gioia però di fatti l'aspetto psicologico è fondamentale e c'è anche quello fisico ossia la sovracompensazione avere due settimane in cui il corpo si dedica esclusivamente a sovracompensare e quindi sia farci partire al meglio successivamente sia andare a sovracompensare a tutti gli stimoli che c'è stato quindi creare effettivamente ipertrofia non dobbiamo mai scordare che il corpo crea ipertrofia dopo l'allenamento nelle fasi successive e finché il recupero non è ottimizzato questi sono modi per ottimizzare un recupero che magari tende a essere inficiato e va ad accumularsi come fatica nel corso di misocicli nel corso del nostro anno finché questo discorso non è ottimizzato non otterremo mai il massimo quindi non sottovalutate il fatto che anno dopo anno anche se impostate i piccoli delod dei piccoli scarichi c'è un filo di fatica che si accumula che veramente riusciamo ad espellere con uno scarico passivo che dura abbastanza tempo allora come impostarlo quindi? il primo discorso è quello di pianificare prima del nostro scarico potete sapete che andate in vacanza, ok? facciamola semplice vado in vacanza per una o due settimane stacco completamente, non mi alleno che cosa faccio prima? quello che io faccio, ho fatto su di me prima dell'operazione e faccio fare ai ragazzi di solito è pianificare un periodo di overreaching e overfeeding ossia l'overreaching lo ottengo mantenendo sempre un'intensità stabile che deve essere sempre alta nel bodybuilding però intervenendo su quella che è la componente che più di tutto impatta sul recupero ossia il volume di allenamento cioè gradualmente aumento il volume l'atleta inizia ad essere stanco, continuiamo ad aumentare il volume l'atleta inizia a non recuperare bene, continuiamo ad aumentare il volume quindi forziamo finché l'atleta non va in questo stato di overreaching in parallelo a una situazione di overfeeding overfeeding, discorso è che voglio spingere tanto le calorie perché? perché devo avere un metabolismo che innanzitutto le calorie devono sostenermi l'alto volume di allenamento che faremo che andrà progressivamente ad aumentare e in più voglio che il metabolismo giri tanto ok? quindi questo andrà logicamente a avere dei benefici nel momento in cui smettiamo di allenarci perché diminuirà la possibilità di accumulare grasso eventualmente che non è una cosa che ci interessa più di tanto quindi questa situazione di overreaching va accoppiata a una situazione di overfeeding quindi l'atleta mi conclude il mesociclo sostanzialmente di lavoro che è completamente cotto il cortisolo è veramente veramente alto la mole calorica è veramente veramente alta e soprattutto la mole glucidica perché è quello che ci serve per spingere la performance e quello è ha bisogno a questo punto di uno scarico e ci prendiamo il nostro scarico come lo gestiamo? allora da un punto di vista di allenamento scarico completo nel senso che non ci alleniamo di nuovo per una o due settimane quindi se dobbiamo fare uno scarico attivo se dovete andare in vacanza vedete voi se trovate una palestra dove fare una capatina una volta a settimana quello che vi pare però se proprio dovete fare uno scarico il concetto per me di portarsi elastici attrezzini da fare in camera d'hotel eccetera è più uno stress che altro io credo che sia vado a non dare tanto beneficio fisico ma impatto tanto su quello che può essere il recupero psicologico quindi la cosa migliore è a posto sfrutto questo periodo per recuperare al massimo da un punto di vista psicologico e mi dimentico di tutte queste cose anche perché dopo tutti i lockdown degli elastici ne abbiamo un po' tutti la nausea diciamoci la verità detto questo da un punto di vista di cardio e NEAT non aggiungete il cardio non impattate sul recupero lasciate che i distretti muscolari recuperino non dovete aver paura di ingrassare il NEAT deve essere normale quei 10.000 passi al giorno se state in vacanza se state girando non contate proprio camminate quanto volete camminare per visitare i posti eccetera però di nuovo non ci pensate lasciate che il corpo recuperi non entrate in paranoia che dovete fare passi eccetera perché andreste ad inficiare il recupero e soprattutto attivereste tutta una serie di adattamenti muscolari che non vi interessano se vi mettete a far cardio smettete di allenarvi il corpo si direziona verso quel tipo di adattamento muscolare che è assolutamente l'ultima cosa che vogliamo ok? quindi da questo punto di vista zero da un punto di vista alimentare tornate alla norma calorica perché questa situazione ovviamente di ipercortisolemia quindi il cortisolo tendenzialmente elevato che è di per sé un ormone iperglicemizzante non si sposa bene con un'alimentazione ricca di carboidrati quindi torniamo innanzitutto in norma calorica questo ci permetterà di risensibilizzarci a livello enzimatico ormonale risettare la nostra sensibilità insulinica e ovviamente l'alimentazione poi se state in vacanza organizzatevi come volete ad occhio mettiamola così organizzatevi ad occhio dovrebbe essere una norma calorica con un buon livello di proteine un buon livello di grassi che è 1,07 un grammo per chilo di peso corporeo e il resto carboidrati quindi niente di esagerato molto molto ponderata i pasti liberi che volete logicamente vi godete la vacanza recuperate eccetera ora a questo punto l'ultimo discorso come tornare in palestra ora molte persone suggeriscono di tornare riprendendo gradualmente facendo delle split un po' più uniformi full body, upper lower ripresa, risveglio muscolare eccetera ora io ho fatto un video per quanto riguarda l'allenamento la ripresa dell'allenamento dopo il lockdown però in quel caso parlavamo di tanti mesi in cui ci siamo adattati non ci siamo allenati al massimo e tutto io quello che vi consiglio di fare dopo una o due settimane di stop non vedo la ragione di cambiare le cose tornate alla vostra solita split l'unica cosa rispetto a dove stavate prima avendo concluso un mese ciclo logicamente ad alto volume tenete il volume basso ritrovate i carichi ritrovate l'effort e dall'ora iniziate ad aumentare il volume a fare le vostre cose eccetera però tornate alla vostra routine l'unica accortezza appunto è quella di tenere un volume un po' più basso 3-4 esercizi per distretto muscolare 1-2 serie per esercizio partendo da là 3 al massimo per quelli metabolici e poi da là costruite e tornate a quel che fate ovviamente lo scopo iniziale è quello di ricostruire i carichi che avevate lasciato e l'effort che avevate lasciato ma verosimilmente non ci metterete molto quindi potete partire subito a bestia perché di nuovo se avete costruito bene a livello strutturale non ci saranno stati disadattamenti e da un punto di vista fisico sarete magari un po' più vuoti di glicogeno però quella è una cosa che recuperate veramente in poco tempo da un punto di vista alimentare ripartite da questa norma calorica e vedete un po' come va con la ripresa logicamente aumentate un filo alle calorie nel giorni on perché saranno giorni in cui il dispegno è maggiore soprattutto carbo ridosso dell'allenamento e da là ricominciate a salire nel momento in cui la performance migliora e il volume migliora ragazzi spero che questo video sia stato utile qualsiasi domanda qua sotto come sempre sarò begliato di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video Grazie